Siamo in onda, ah ok, siamo in onda Ed eccoci con il telegiornale regionale dei 5 minuti Abbiamo con noi, noi due siamo i presentatori Io mi chiamo Zambuto Il Pasquale E io Dario Lampa, all'appello Lampa Dario Dell'Ikea? No, quello normale Ok, passiamo alla prima notizia Sembrerebbe che una nostra inviata sia andata a fare un colloquio con Chuck Norris E nel frattempo che si assorgiavano un bicchiere di caffè Chuck Norris abbia rivelato un segreto che tiene in casa Lui ha un divano letto e uno ancora da leggere Eh, Chuck Norris è proprio un letto Vai avanti con la seconda notizia Abbiamo trovato, sembrerebbe abbiano trovato un esemplare di Urupaiaia Electro Paratanta Un animale che sembra abbia tre testicoli addirittura Ho guardato le foto, lui può confermare Ha tre coglioni che fanno paura Ah, ora tocca a me, sì, scusa mio caro collega Allora, abbiamo scoperto che recentemente è stato trovato il metodo Pensate, signore e signori a casa Per trasformare la merda di cavallo in energia rinnovabile Avete sentito bene Se volete capire bene qual è il processo chimico Scusate, amici, questa è spiaggia? No, no, no No, grazie, amico In TV non si fa pubblicità Ragazzi, niente con quella light Non si fa pubblicità No, guarda, con qualcosa zero light non si può fare No, basta Oh Anche i cellulari quando nello studio mettono Eh, spiaggia, via, via, portalo fuori Va via, comuni, va via In situazioni spiaggia Comunità, ciao, bello, ciao Se volete sapere come trasformare la merda di cavallo in energia rinnovabile Guardate il nostro sito www.atg5.verdadicavallo.com Anche poi Se volete Attuali i cellulari E basta La prossima notizia se ma sia di borsa Aspetta che Che cazzo c'è scritto? Chi l'ha scritto? Cazzo di Dora l'esploratrice Te l'ho detto Sempre la solita Sempre Dora Dora l'esploratrice Comunque ultimamente dai recenti studi è emerso che Che è mia questa, scusate, sbagliato signori E' emerso che Chi ha le ricche piccole E' scientificamente provato o muoia prima E' un saggio di Mohamed Momosahid Lo sa, lo sa Mohamed Momosahid è una persona che vi dovete segnare E' questo che basta a far casino però E' appena di finirla E' appena di finirla E' appena di finirla E' appena di finirla E' appena di finirla